Ciao Luca, da quanto tempo? Cosa fai di bello? Come non lo sai? Mi sto laureando. Bravissimo! E poi? Pensa al futuro, pensa positivo. Il servizio gratuito EURES è promosso dall'Unione Europea in collaborazione con la regione siciliana. Sessorato lavoro ti offre tantissime possibilità di lavorare all'estero in 31 paesi europei. Basta con la solita vita, basta con le solite facce. Europeizzati anche tu. Collegati al portale www.io-eures.eu o chiama lo 091 70 78 517. EURES è anche su Facebook!